Ciao a tutti, sono Robixarex e questa è una nuova puntata di Trivia! Trivia è una rubrica in cui facciamo un piccolo quiz su qualche curiosità molto strana del cinema. Questa puntata sarà dedicata a Hitchcock e la sua fobia molto 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 strana. Hitchcock aveva una rara e strana fobia, quale secondo voi? Come al solito vi do 4 opzioni e 10 secondi per decidere la vostra risposta. Numero 1, aveva paura delle uova. Numero 2, aveva paura dei cosmetici. Numero 3, aveva paura degli incroci stradali. Oppure ancora la numero 4, aveva paura dei colori accesi. Scegliete molto bene la vostra risposta e avete 10 secondi per pensarci. 3, 2, 1, non l'ho detto a voi! La risposta giusta era aveva paura delle uova. Non sapevo neppure che esistesse questa fobia e si chiama ovofobia. Ovvero la paura e la repulsione verso le uova. La cosa strana è che però non aveva paura delle galline. Ovvero alectorofobia. Aveva solo paura delle uova, però era una fobia che ancora non è stata molto indagata ed è anche molto rara. Una volta disse che le uova lo spaventavano e lo rivoltavano. Perché secondo me erano una cosa tutta bianca senza fori. Nello specifico disse, avete mai visto qualcosa di più rivoltante di un tuorlo d'uovo? Rivoltante. Io non ne ho mai assaggiato una. C'è una metà che a me le uova fanno un po' schifo. Però quando le apro e non sono ancora gotte. Sinceramente neppure da gotte mi piacciono troppo perché mi sanno un po' di vicino. Poi quando le apro tipo per fare dolce o cose così ho sempre paura che ci sia un pulcino dentro. Quella cosa mi terrorizza troppo. Quindi quando vedo tipo un uovo che ha semiformato... Mi sento come nei film quando scoprono che la loro casa è stata costruita su un cimitero indiano. Sapevate già questa storia? Conoscete qualcuno che ha la fobia delle uova? Io non ne ho mai conosciuto uno. Se avete delle fobie strane fatemelo sapere. Se avete deciso di vedere questo video grazie mille. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Ciao!